Imprenditore lascia la sua eredità ai dipendenti Vant Create City? Fint Free World Prestemesa & Plugins. Un imprenditore muore e lascia 4 milioni di euro ai suoi dipendenti. E. Luciano Tamini, morto il primo luglio a 84 anni e ha lasciato ai suoi dipendenti un fetta della sua eredità. Saranno 300, tra operai e impiegati che riceveranno tra i 10 mila e i 15 mila euro. Il primo luglio. Estromesso alla fine dalla carica di presidente e onorario, Tamini scrisse un'ultima lettera ai suoi dipendenti, Ho compiuto 84 anni, ma come un vecchio leone vi dico che sono pronto a ruggire ancora. La Tamini è indistruttibile e non potrà finire mai. Abbiate pazienza e fiducia, un abbraccio a tutti. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps. Ciao! Ciao